Buongiorno da Naveglia Salerno con voi dagli studi di Radio Alfa per l'appuntamento con l'informazione. Ieri sera all'ascensione delle luci d'artista a Salerno, le opere d'arte luminosa, nel corso di una cerimonia alla villa comunale presieduta dal sindaco De Luca e con la partecipazione di Peppe Barra e Marisa Laurito. Il sindaco ha già dato appuntamento al 4 dicembre quando sarà acceso il gigantesco albero di Natale alto 30 metri con 35.000 luci posizionato in piazza Portanova. L'intero percorso di luci d'artista invece è lungo 27 chilometri di luci e si snoda dal centro della città fino alla zona orientale. Per l'occasione Peppe Barra ha rivolto un appello al sindaco De Luca affinché possa fare a Salerno la cantata dei pastori dal momento che a Napoli non riesce a rinnovare la grande tradizione della canzone e della cultura partenopea che è appunto la cantata per motivi economici. È una vergogna, a Napoli non ci sono i soldi, ha detto Barra, ma si investe in molte altre cose e non nella cultura. A Napoli, ha aggiunto l'artista, ci sono i turisti della domenica che trovano i musei chiusi, è una vergogna. Credo che De Luca, ha concluso Peppe Barra, sia un grande sindaco che combatte il buio e le difficoltà di questo sud aggrappandosi alla cultura, cosa che Napoli non sa fare. Cambiamo argomento, si riunirà lunedì il tavolo tecnico di consultazione permanente istituito dal Consiglio regionale della Campania lo scorso 29 ottobre al fine di adottare ogni utile iniziativa in merito alle criticità che riguardano il ciclo integrato dei rifiuti in Campania. Lunedì, scusate, alle 10, con il Presidente del Consiglio regionale Paolo Romano, al tavolo siederanno il Presidente dell'Aggiunta regionale Caldoro, l'Assessore all'Ambiente Romano, il Presidente della Commissione Ambiente Collasanto, i Presidenti dei gruppi consigliari, i Presidenti delle cinque province campane ed il Sindaco di Napoli. L'Assessore Carmine Adinomolfi ha ressegnato le sue dimissioni nelle mani del Sindaco di Cava dei Tirreni, Marco Galdi. In una lettera spiega il gesto, non condividendo più le linee politiche del partito dell'Udc assunte negli ultimi tempi e in particolare in contrasto aperto con il Presidente della provincia Cirielli e volendo al tempo stesso non mettere in difficoltà il Sindaco Galdi. Una raccolta firme è stata avviata in Campania per una petizione in difesa della sanità pubblica. I firmatari chiedono che siano ritirati tutti i provvedimenti varati dall'amministrazione regionale in materia di sanità che ledono il diritto alla salute, in particolare il decreto del 27 settembre che prevede su tutto il territorio regionale la soppressione di 2.400 posti letto, la chiusura di 9 ospedali e la dismissione per altra destinazione di 23 ospedali. Si chiede anche il ritiro dei provvedimenti regionali che prevedono il pagamento del ticket sulle prescrizioni farmaceutiche e per l'accesso al pronto soccorso. E un incontro pubblico per la costituzione di un comitato provinciale di difesa della sanità pubblica è previsto per oggi pomeriggio alle 17.30 a Salerno, al centro della tenda in via Fiera Vecchia. L'evento è organizzato dall'Unione Sindacale di Base che rivolge un appello a lavoratori disoccupati, precari, pensionati e a tutte le organizzazioni sindacali e alle associazioni del territorio che condividono l'esigenza di opporsi allo smantellamento del servizio sanitario pubblico e ritengono urgente una forte mobilitazione per difendere il diritto alla salute di tutti. La conferenza dei sindaci del distretto sanitario Sala Consiglina Polla è stata convocata dal presidente Tommaso Pellegrino, sindaco di Sassano, per lunedì alle 10 presso la sala giunta del proprio comune. Nel corso della riunione si discuterà della rimodulazione dell'ambito della medicina generale e della riorganizzazione dei presidi di continuità assistenziale, l'ex guardia medica. Al via del lunedì a Mercato San Severino il servizio di mensa scolastica che si può definire ecosostenibile. Si tratta di uno dei primi bandi in cui si presta attenzione ai cibi biologici, ai prodotti che aiutano l'economia agroalimentare della provincia, alla sicurezza alimentare. Gli alimenti saranno confezionati in conformità con quanto previsto dalle vigenti disposizioni di leggi. La ditta giudicatrice del servizio provvederà alla cottura dei pasti utilizzando le attrezzature esistenti nelle cucine delle scuole, in quanto non è prevista la somministrazione di cibi precotti. Le tabelle dietetiche sono state predisposte dal servizio di igiene pubblica del distretto sanitario dell'ASL di Mercato San Severino. La ditta fornitrice infine è tenuta ad effettuare analisi periodiche di controllo chimico e microbiologico. Con questa notizia chiudiamo questo appuntamento con l'informazione da parte mia Naveglia Salerno e dallo staff di Radio Alpha. Grazie per l'attenzione e buon fine settimana.